Eccoci quindi qui ragazzi, allora se ci avessero detto all'inizio di questo campionato che la Juve avrebbe vinto soffrendo prendendo due gol e segnando al 93 in casa del Chievo con Cristiano Ronaldo titolare tutti quanti ci saremmo fatti una grossa risata ed invece è stato proprio quello che è successo al Bentegodi la Juve riesce a vincere per 3-2 una partita molto molto sofferta grazie al gol di Chedira Bernardeschi e all'autogol di un difensore del Chievo di cui mi sfugge in questo momento il nome è stata una partita molto molto particolare, prima di tutto sono stato contento di rivedere di nuovo il campionato italiano mi era mancato veramente tanto e non era possibile che gli unici, le uniche partite che potevo vedere era quella merda di International Champions Cup che ancora non capisco il motivo di quell'esistenza, della loro esistenza finalmente è ritornato il campionato e sono tornate subito le sorprese il risultato di questa partita mi fa pensare prima di tutto che nel calcio nulla è scontato è vero che la Juve alla fine è riuscita a vincere perché ci ha creduto di più perché il Chievo nel finale ha perso molte energie fisiche, cosa normalissima perché per gran parte della partita hanno corso fino a spomparsi però il risultato è stato molto molto più sofferto la Juve devo dirvi la verità, per gran parte della partita non mi è piaciuta ho visto il gol di Chedira dopo 3 minuti e subito ho pensato ecco ma questi ne fanno 7-8 fanno subito vedere di che grande potenza sono e rimangono comunque forti per carità e finisce in goleada in realtà da quel gol in poi la Juve mi è sembrata come in stato di presunzione come per dire oh l'hiamo segnata ma il Chievo te pare che ci va a segnare il Chievo ma sono una squadra ridicola, fanno schifo non mi pare proprio che fanno schifo perché sono riuscito a trovare il pareggio con un ottimo colpo di testa di Stepinski e nel secondo tempo sono riuscito addirittura ad andare in vantaggio con un rigore di Giaccherini qua bisogna dire brutto errore di Cancelo che si è perso il proprio avversario come un pivello e l'ha fatto cadere all'interno dell'area di rigore alla fine la Juve è riuscita anche con un po' di fortuna a rimetterla in gioco pareggiando con un autogol del difensore del Chievo sul quale però c'era anche una deviazione di Bonucci e vincendo negli ultimi minuti con un tapino sottoporta di Bernardeschi che conferma di essere l'arma in più della squadra bianconera quel giocatore non nominato praticamente da nessuno ma che il suo lo fa sempre l'anno scorso ha trovato molti gol decisivi e anche adesso è riuscito a trovare un gol di straordinaria importanza per non macchiare completamente l'esordio di Cristiano Ronaldo nella nostra Serie A parlando proprio di Cristiano Ronaldo perché mi sembra giusto aprire un paragrafo a parte io ero sicuro che lui non avrebbe fatto 4-5 gol perché per quanto è un fenomeno è comunque un giocatore normale ed è giusto che abbia i suoi tempi per ambientarsi in un nuovo campionato in un nuovo contesto con una squadra diversa e contro un avversario che comunque tecnicamente ti può mettere in difficoltà con questo non voglio dire che il Chievo ha dei fenomeni squadra però sono quella classica squadra difficile da affrontare ecco mettiamola sotto questo punto di vista e in un romanista lo sappiamo sicuramente bene Ronaldo ha provato alcuni tiri su alcune occasioni ha trovato un Sorrentino veramente pronto tra l'altro gli faccio gli auguri di pronta guarigione perché mi ha messo veramente paura quando nel finale si è scontrato con Ronaldo ed è stato per qualche minuto per terra veramente io l'anno scorso l'ho deligrato quando ci ha fatto quelle parate in Chievo-Roma ma non mi permetterei mai di sperare in un male fisico per lui e quindi gli auguro la completa guarigione tornando sul discorso di Ronaldo ha fatto qualche buon tiro, qualche buona assist per i compagni però niente di particolarmente esaltante per carità non è che c'è da preoccuparsi oddio il talento è finito non nulla di tutto questo come ho detto la partita era difficile e all'esordio è facile vedere giocatori ancora indietro sotto diversi aspetti sicuramente Ronaldo crescerà con il tempo e man mano che passeranno le giornate riuscirà a mostrare sempre di più il talento che sappiamo tutti essere pieno dentro di lui come stavo dicendo la Juve riesce a trovare un gol negli ultimi minuti per grande grinta e forza di volontà anche se il Chievo si può dire che comunque dopo il 2-1 anzi dopo il 2-2 si è sciolto come neva al sole per loro già era tanto riuscire a fare due gol alla Juve di Cristiano Ronaldo e a un certo punto hanno proprio perso tutte le energie la Juve è andata di continuo in zona offensiva e alla fine il gol si può dire che è la naturale conseguenza di delle continue azioni offensive che ha fatto la squadra bianconera parlando un attimo del gol annullato del 3-2 quello pochi minuti prima quello di Bernardeschi da parte di Manzokic qualcuno ho letto sui commenti che reputa il gol regolare perché comunque Ronaldo non fa un effettivo fallo su Sorrentino però secondo me e penso che questo l'abbia capito anche l'arbitro quando un portiere comunque quando un giocatore subisce un fallo pericoloso e addirittura per farlo rimanere qualche minuto per terra tutto quello che succede già dopo diventa irregolare mi spiego meglio l'arbitro ha valutato al VAR che Ronaldo ha fatto fallo ha fatto carica su Sorrentino oltretutto Manzokic con il portiere a terra che si era fatto male ha colpito a porta vuota quindi di conseguenza l'ho spiegata male so che l'ho spiegata male però in questi casi si valuta sempre l'annullamento del gol anche se la palla comunque era entrata e non poteva essere altrimenti vista la goal line technology quindi secondo me tutte le decisioni arbitrali sono state prese bene giusto del rigore da dare al Chievo giusto annullare il gol della Juve e regolare tutti i gol che sono stati fatti quindi la Juve vince ma non convince al 100% in casa del Chievo è una vittoria che dimostra ulteriormente che la Juve rimane sempre la squadra più forte di questo campionato ma dimostra al contempo stesso che nulla è scontato e anche avversari che in realtà sarebbero 10 volte più scarsi della stessa Juve possono metterli in difficoltà e se ci è riuscito il Chievo con tutto il rispetto figuriamoci se non può riuscirci una Roma un Inter un Milan una Lazio o queste squadre qua con questo non voglio dire che la Juve faticherà con tutte ci mancherebbe altro ma non vincerà neanche al massimo con tutte questo è il mio pronostico detto questo ragazzi fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate di Chievo 2 Juventus 3 ci vediamo presto per la recensione di Lazio-Napoli iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un mi piace per continuare a supportarmi un saluto e sempre e comunque forza Roma ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.